è un po come se tu vedessi o la scena seduto in poltrona o fossi parte della scena del film noi siamo parte della scena del film nulla improvvisato in ospedale che si occupa di feriti di guerra devi essere sempre pronto a far fronte a qualche evento eccezionale tutti noi siamo in dotazione di radio a bassa frequenza per avere comunicazioni più veloci ognuno sa esattamente dove porsi chi ha più alte possibilità di vita va per primo in sala operatoria tutto questo è organizzato in maniera maniacale ogni esplosione senti ancora l'adrenalina nelle gambe le gambe un pochettino molli senti che ti manca la saliva senti che sudano un pochettino le mani ti puoi abituare alle conseguenze della guerra quanto infermiere ti abituerai mai perché non è roba nostra non siamo soldati non siamo ad un'esplosione ad una sparatoria c'è quella situazione emotiva all'inizio che devi combattere concentrandoti su quello che devi fare grazie 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 grazie